Ciao a tutti, oggi io, io faccio un video con il mio express, io ne ho due, uno ne ho già aperto perché mi piaceva tanto, era di Super Mario, era un braccialetto, adesso apriamale? Bello, è che va da qui? Grazie a tutti Wow, ma prima io non so come si fa Quindi prendo le istruzioni Wow Ale Ok, ecco qua Adesso Grazie a tutti Grazie a tutti